Eeeh, con la mano? Ma che casino? Allora, piano, si andrebbe un po' di sweat con solo noi e te. Cos'è il sweat? Mi sa chi vuoi come? Oggi ho visto. Allora, bentornato, grazie. Precosa è la sostanza dei giorni nostri. Finalmente, S'ha ricampati a Palermo. Un si scusari di noatei. Ma voi la, allora, voi la sentite bene la voce? Sì! Io sento tutto basso, così da un parlare. Tutto basso. Un po' più alto tutto. Eio! Sono la febbre, ma sicura, sono qui per te, sono per te, grazie. Eio! Vivo di emozioni di solo tu, stai d'armi attraverso la tua musica, per me è il paradiso. Grazie. Chi ha letto la stagetta su Facebook? Cosa succede questo? Non è letto. L'amore cambia. L'amore cambia.